Ok, fine del gioco. Signor Boudreau. Sì, signora. Com'è possibile? Il DNA del dente non corrisponde. È lui. Sappiamo che è lui. Ed Turner. Che vuoi dire? È stato lui a trovare il corpo di Susan Watts. Quel nome è l'anagramma di Return, tornato. Magari è una coincidenza? No, non lo è. Niente coincidenze con Tyson. È sempre un passo avanti. Volevano essere qui e così è stato. Perché? Beckett. Beckett. We'll meet again, don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day. Scatta la segreteria. Tu puoi segnali a posti che potete lasciarvi un passaggio. Just like you, always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.